lo zucchero serve a far che cosa? serve ad ammorbidire il sapore praticamente andiamo solo a correggere il risultato diciamo in bocca diciamo anche che un vino con un piccolo dosaggio tende ad essere un filino più lungo come percezione in bocca mentre quando andiamo a aggiungere un po' di zucchero tendono anche ad allungare la persistenza gustativa del vino stesso in italia abbiamo una classificazione che in realtà poi è internazionale si parla di dosaggio zero dove si può avere al massimo 3 grammi di zucchero che sono però residui dalla fermentazione abbiamo delle altre categorie abbiamo l'extra brut che comprende quei vini dove è stato aggiunto zucchero fino a un massimo di 6 grammi per litro abbiamo il brut dove l'aggiunta massima è fino a 12 poi abbiamo categorie più impegnative come l'extra dry da 12 a 17 il dry da 17 a 34 quindi andiamo a mettere veramente quantità importanti di zucchero